Trailer di Minecraft, gente. Graver torna su Minecraft dopo 2671 anni? No. Portale blu. Non so quali sia il target di un film del genere. Sapeva che facevano il film di Minecraft in live action? E da quando l'hanno annunciato gli dicevano Ma perché devi fare un live action con un film di Minecraft? Qual è il vantaggio? E vedendolo al trailer non c'è un vantaggio. We will be watching. Io non so se lo andrò a guardare. Se lo vado a guardare lo faccio tanto per farci un video che guardo. Altrimenti non andrei mai a guardare un film del genere al cinema. Perché faccio un video? La recensione dei film di Mario è andata bene. Posso farla anche dei film di Minecraft. Farla come il film di Mario è troppo scontato. Non che mi sarebbe piaciuto il film se l'avessero fatto come il film di Mario. Io penso che di base l'idea di fare un film di Minecraft sia un'idea sbagliata. Io credo che sia un concept fallimentare di partenza. Questo è il problema secondo me. Quindi torni su Minecraft. Esatto gente. Se posso giocare a Minecraft fisicamente così. Io entrando in un mondo di creature mostruose. Con roba quadrata ma non proprio. Quello posso fare. Giocare a Minecraft su PC. Troppo overrated ormai. Purtroppo non mi interessa.